Oggi è un bel momento, c'è la presentazione del suo libro e poi c'è questo video che racconta un po' quella che è la storia del libro. Sì, io come dicevo prima, proprio per formazione, amo un po' accompagnare con delle immagini le cose che vengono raccontate. Siccome nel mio libro si raccontano una serie di luoghi con un filo conduttore comune, che è una riscoperta della figura di Mattia Preti e del percorso di crescita di un adolescente. Ci sono questi due fili che si intrecciano in qualche modo e quindi mi è piaciuta l'idea di accompagnare la trama di questo libro con delle immagini che riuscissero a dare un po' di visibilità, di concretezza visiva a tutto quello che io ho cercato in qualche modo di raccontare e di correlare. Ecco, questi due temi che si intrecciano nel libro sono una riflessione per i giovani? In qualche modo sì, perché diciamo che appartiene alla categoria del romanzo di crescita. Si parla di un adolescente che attraverso l'arte, attraverso la scelta di un percorso anche di studio artistico, trova la sua strada nella vita e trova anche il modo di emergere, di uscire dalle secche di una serie di problemi familiari che avrebbero altrimenti potuto in qualche modo, diciamo, bloccarla nel suo sviluppo. E questa è una storia che poi a sua volta si dipana e va avanti con tutta una serie di altre considerazioni. Il collegamento con Mattia Preti? Il collegamento con Mattia Preti è un po' un mistero. Un mistero che spinge questa ragazza ad andare avanti nella sua formazione e la convinzione di aver trovato una... di aver fatto una scoperta artistica molto importante, cosa che tutto sommato nelle nostre zone è più che plausibile, no? Sappiamo di, che ne so, di varie vicende, il Rembrandt che è stato trovato nascosto in un fienile, altre opere di altri artisti. Quindi perché no? Perché non poter avere scoperto un Mattia Preti? Però in questo momento non è questo l'importante. L'importante è che per questa ragazza questa scoperta dà una motivazione forte, che è quella che a volte ai giovani manca.